Approvato il teatro comunale, ma bufera sulla nuova giunta Palomba. Il Consiglio Comunale di Torre del Greco, riunitosi ieri sera in sessione ordinaria, ha approvato la mozione sul teatro comunale di Michele Langella, presidente del gruppo consigliare Alleanza Democratica per il fare civico, protocollata a firma congiunta dei consiglieri Aniello Formisano, Ana Laura Guarino e Lucia Vitiello. La proposta era quella di munire la nostra città di un pollo artistico e culturale da utilizzare per eventi e progetti. Ovviamente l'iter per la realizzazione richiederà anni. Il primo passo è quello di scegliere una sede. Con l'approvazione di quest'ordine del giorno si impegneranno gli uffici a fare una manifestazione di interessi per recepire una struttura o realizzare il teatro. Individuata la struttura si procederà al fitto o all'acquisto. Duro invece, sempre nella seduta di ieri, l'attacco dei consiglieri Caldarolo e Guarino sulle vicende che hanno portato alla nomina dell'attuale giunta. Entrambe hanno ricordato che il sindaco viene eletto direttamente dal popolo e che quindi un accordo politico che non rispetta la volontà popolare è illegittimo. Il riferimento è ovviamente al nuovo esecutivo, che riunisce forze di maggioranza ed opposizione. Oltretutto vengono sollevati i soliti dubbi sulle nuove deleghe, in particolare per quella di Maria Pirozzi, assessore alle politiche sociali, su cui graverebbe un presunto conflitto di interessi. Il sindaco Palomba rimarca Caldarola o è ostaggio di chi ha scelto il nuovo esecutivo o è complice di un inciucio politico volto ad ottenere poltrone.